14 mazotti Bene ragazzi, secondo round all'Osi Zegna Oggi gara completamente stravolta dal meteo In quanto c'è stato l'annullamento di PS1 e PS3 Quindi si andrà a ripetere due volte PS2 Quindi saliamo verso PS1 Facciamo un po' di riscaldamento prima della partenza 4, 3, 2, 1, vai 5, 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 4, 3, 1, vai 5, 4, 3, 2, 1, vai 5, 4, 1, vai 5, 6, 3, 1, vai bravo 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 ora piaccia 1 andata come avete visto tanto tifo bello ovviamente il sentiero è molto fangoso le ruote si impassano parecchio però comunque divertente ora controllo orario direzione ps2 che si ripeterà uguale alla 1 vado grazie 4 3 2 udo allee 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 ok prima è Alla fine, vai fine, bravo, vai! Come copertina, eh? Come copertina, cazzo! Come copertina, come copertina, cazzo, 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 cazzo! Come copertina, cazzo, cazzo, cazzo! Come copertina, cazzo, 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 cazzo! Come copertina, cazzo, 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 cazzo! Come copertina, cazzo!